Allora, io dico due cose così sul libro per inquadrarlo un po', che tra l'altro l'ho anche qui, come si fa in televisione, lo faccio vedere io, così non deve farlo vedere il po' sul Grillo, lezioni cinesi come l'Europa può uscire dalla crisi, perché questo, diciamo, è un libro che parla della Cina, ma non parla soltanto della Cina, parla anche molto dell'Europa, perché la tesi è un po' che la Cina sia come uno specchio rovesciato, dice Grillo, dell'Europa, cioè dove va bene la Cina, forse l'Europa rimane un po' indietro. Ecco, la Cina è riuscita a fare un grande balzo in avanti, si è adattata molto bene alla rivoluzione tecnologica, sviluppando quegli strumenti di apprendimento collettivo, dice Grillo, dove l'Europa invece è stata un po' carente. Il punto, diciamo, di snodo è un po' con una crisi della democrazia e dell'elite. Addirittura Grillo fa un'analisi, agli ultimi trent'anni del PIL individua una correlazione negativa tra la democrazia e la crescita del PIL. E questo non è soltanto banalmente come si potrebbe pensare dovuto al fatto che noi, che i paesi più sviluppati crescono meno, perché questo, dice Grillo, non è nemmeno la teoria economica, anzi, chi ha più strumenti dovrebbe crescere anche più degli altri. E perché noi forse, e qui Grillo individua un po' una data, una data limite, un momento diciamo colminante, noi siamo rimasti un po' fermi proprio dopo l'89, cioè da dove l'Europa, il modello europeo, il modello democratico ha vinto, noi ci siamo un po' seduti, forse siamo rimasti un po' sguarniti e non abbiamo visto che altri paesi invece stavano galoppando. E' un libro, diciamo, scritto antepandemia, come ha detto Grillo, che però conserva intatta la sua attualità, direi in qualche modo anche a me, perché alla fine la Cina è uscita subito, molto velocemente da questa crisi, meglio almeno al momento, meglio sicuramente dell'Europa. Dico un altro paio di cose, intanto il Partito Comunista Cinese è una realtà effettiva, non è soltanto la copertura del turbocapitalismo, lui spiega bene com'è questo apparato del Partito Cinese, con 90 milioni di aderenti che poi piano piano selezionano fino ai sette del comitato permanente, e quando ha spiegato questa cosa poi torna indietro e dice sì, però funziona al contrario, cioè sono i primi sette che poi selezionano chi li integrerà dai secondi 25, i secondi 25 sceglieranno dai primi 200, ovviamente è un sistema di copertazione molto chiuso, che non lascia, diciamo, margini a improvvisazione. Ora vorrei passare subito alla parte finale del libro, in cui lui, il libro è molto diciamo ragionato, ricco di citazioni, ma nella parte finale lui ha delle idee forti, che io vorrei citare, magari poi lui le riprende, se le ritiene funzionale al dibattito. Intanto lui, per uscire alla crisi, indica all'Europa la possibilità di creare dei fondi chiusi per creare delle start-up, immagino dei fondi chiusi creati dalla Commissione. Poi prevede una cittadinanza europea, questo è un tema su cui in qualche modo è tornato, anche qualche giorno fa in un articolo sul Messaggero, e mi sembra questa un'idea molto forte, nel senso che non viene stesa a tutti, ma verrebbe data soltanto, immagino parlando dei giovani, a chi facesse l'Erasmus, oppure facesse un servizio civile in Europa. E' una cosa forte e interessante. Un'altra idea che mi è piaciuta molto è il Collegio Europeo, cioè le elezioni politiche europee, prevede la possibilità di poter eleggere, cioè per il candidato di candidarsi nel Collegio Europeo, e per l'elettore di scegliere di votare un candidato nel Collegio Europeo, in modo da superare i localismi. E poi lui ci va giù pesante a un certo punto, perché dice di drammatizzare l'euro, di dare regole chiare per permettere anche di uscire, addirittura di drammatizzare il default degli stati, ridimensionare il ruolo delle banche centrali, perché non esiste l'albero dei soldi. Insomma, sono dei temi abbastanza forti. Ultimo, e poi vi lascio la parola, noi siamo stati, lui lo scrive un po' il laboratorio del populismo, purtroppo negli anni venti con un altro laboratorio pure abbastanza drammatico, abbiamo portato al governo il primo partito populista col 30% in pompa magna, però adesso, a un anno e mezzo alla pandemia, un anno della pandemia è cambiato tutto. Adesso questo partito governa col massimo della euroborocrazia, col massimo dell'elite. Allora mi chiedo se forse, diciamo, la paura non abbia riportato una fiducia nell'elite, che prima non c'era, e però in questo caso comunque saremmo, ce la staremmo giocando, nel senso che poi sarebbe un grosso rischio se le cose non dovessero andare, per il verso giusto. Allora, grazie, forse mi sono dilongato troppo, ma la parola apprezzata. Grazie, grazie. Allora, tocca a me? Sì. Allora, intanto volevo saluto Andrea Cuturi, che ci siamo visti in qualche occasione ad Omnibus, e volevo fare i complimenti e ringraziare molto Francesco perché ha fatto una sintesi molto sintetica, molto puntuta, ha estratto alcuni dei messaggi più chiari. Alcuni, perché francamente parlare di Cina, la Cina ha un miliardo e quattrocento milioni di persone, noi non facciamo manco tanto contezza, non abbiamo neanche tanto contezza di quanto sono un miliardo e quattrocento milioni di persone, sono sostanzialmente un numero di abitanti superiore all'Unione Europea, gli Stati Uniti, il Canada, la Russia, tutte le former republic, il Giappone, tutti messi insieme, quindi è un quinto della popolazione mondiale. Quindi questo ti porta probabilmente a fare i conti con tantissime questioni, anche se sicuramente c'è un fil rouge, quindi lui tratta estratto da quel libro alcune idee che effettivamente oggi a proposito dell'euro direi che è un poco persino pericoloso per parlarne in quei termini. Lì effettivamente un anno di pandemia ha fatto molta differenza. Magari proietto qualche slide, però volevo premettere una cosa, giusto per mettere le mani avanti. Io ritengo che la Cina sia un avversario, non un nemico, ma sicuramente un avversario, però, come diceva, uno dei più grandi, forse il più grande teorico della guerra, magari insieme a Napoleone e Bonaparte, se vuoi in qualche maniera, come dire, confrontarti con l'avversario lo devi conoscere. Questo è fondamentale, limitarci, come fanno alcuni commentatori, a dire che noi siamo valorialmente superiori a loro e quindi non abbiamo neanche da avere a che fare con loro, significa condannarci probabilmente alla sconfitta è un declino che potrebbe diventare veramente drammatico. La cosa che diceva Francesco all'inizio è una parapresa di quello che diceva Calvino. Nelle città invisibili. In effetti il libro, oltre ad essere un saggio, è anche molto un racconto, abbastanza letterario, anche perché ti porta quasi immediatamente a avere a che fare con i grandi miti di Marco Polo, della storia in generale, la grandissima storia cinese, forse la Cina è il paese che ha la storia più densa del mondo insieme all'Italia, e ovviamente a Italo Calvino, che lui scrisse lezioni americane, però di Cina parlò molto facendo riferimento a Marco Polo. Allora, condivido velocemente lo schermo, se ci riesco, dovrebbe essere questo. Si vede? Sì. Si vede tutto intero? No, forse si vede. Si vede anche la parte normale, ecco qua, dovrebbe essere così. Bene, allora proviamo. Allora, in realtà, velocemente dico, i libri sono in realtà due, lo accennavo prima, c'è lezioni cinesi e la versione in inglese, in realtà un libro decisamente più accademico, che addirittura confronta direttamente il caso della Cina e il caso dell'Italia. Il caso della Cina e il caso dell'Italia perché sono i due paesi che su 193 paesi del mondo, cioè che aderiscono alle Nazioni Unite, si collocano esattamente al primo e all'ultimo posto per capacità di crescita dal famoso 1989 in poi. e quindi il confronto tra i due, poi tra l'altro sono paesi che sono anche paradossalmente simili, come dicevo prima, per qualche motivo è un confronto estremamente interessante anche dal punto di vista accademico. Velocemente, perché è importante studiare la Cina? Un po' l'ho già detto. Vincitori e vinti della grande pandemia, quindi in qualche maniera con Gian Lorenzo si diceva facciamo anche una revisione di quello che era le lezioni cinesi dopo un anno di pandemia. Cosa c'è di vero nella crisi della democrazia? Qualcosa sul segreto del successo della Cina, anche per sfatare alcune leggende metropolitane. non posso non parlare dei limiti di quel modello, quindi dell'Oxian, del Tibet, di Hong Kong, che però, come dire, sono molto legati anche ai punti di forza di quel modello. Lezioni cinesi oggi, quindi non necessariamente vado esattamente su quelle che accennava Francesco prima. Allora, perché è importante la Cina? perché c'è un tema, un'evidenza, diciamo, un'evidenza molto forte che tra l'altro notò per primo Robert Solov, che probabilmente non il padre, ma diciamo il nonno di Mario Draghi, infatti la sua tesi di laurea era con Modigliani e con Solov. Lui già nel 1986 diceva che stranamente i computer sono dovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività. E questo dicono questi due grafici. Sostanzialmente, noi da una parte abbiamo avuto una esplosione impressionante della quantità di informazione alla quale riusciamo ad accedere, o se vogliamo una diminuzione impressionante del costo per elaborare, per accedere, per trasmettere informazione, ma tutto ciò si è riflesso in un tasso di crescita della produttività che ormai da più di 30 anni è sistematicamente in declino. E questo è un grandissimo paradosso, perché in teoria se io ho un computer dovrei essere più efficiente. E invece ciò non succede. Allora la Cina, perché è interessante, questo vale fino a un certo punto anche per l'Asia nel suo complesso, o perlomeno per la parte dell'Asia che è bagnata dal Pacifico, ma anche Singapore, che non lo è, ma è il paese sicuramente più vicino alla Cina, pur essendo così molto molto più piccolo. In Cina la produttività del lavoro, sostanzialmente da quel famoso 1989, in cui il regime rischiò molto fortemente di squagliarsi, esattamente come successe al Sacro Proletario Impero a Mosca, e da quella data in poi la produttività del dragone continuata ad essere di multipli superiore a quella dell'Occidente. Anche negli ultimi dieci anni c'è stato un rallentamento del tasso di crescita della Cina, ma la produttività ha continuato a crescere, mentre dopo la crisi finanziaria l'Europa e gli Stati Uniti hanno recuperato il prodotto interno lordo, soprattutto attraverso un aumento dell'occupazione, che però pagano sempre di meno. in Cina è successo il contrario. L'occupazione è rimasta uguale. Negli ultimi dieci anni la Cina impiega circa 750 milioni di persone, però tutto l'aumento della ricchezza generata anno per anno è determinato ad un aumento della produttività. Ovviamente la produttività significa molte altre cose. Il libro ha molte più misurazioni, cioè produttività e prodotto interno lordo, ma in Cina, per dire oggi, ma già prima della pandemia, un nuovo nato in Cina aveva già una speranza di vita media leggermente superiore a quella di un nuovo nato negli Stati Uniti, nonostante il fatto che gli Stati Uniti spendono come spesa pubblica, non privata, in sanità 30 volte più dei cinesi. Un anno dopo, che è successo? Noi qui abbiamo calcolato con Vision sui dati del Fondo Monetario Internazionale e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo calcolato due indicatori. La resistenza economica alla pandemia, misurata in termini di quanto diversi paesi sono riusciti a contenere la caduta del prodotto interno lordo, e poi ovviamente la resistenza dei sistemi sanitari calcolati, il numero di vittime della pandemia. Chiaramente questi numeri sono stati contestati dovunque, anche in Italia, anche negli Stati Uniti, però diciamo che gli ordini di grandezza sono davvero impressionanti. Cioè, non riguardano solo la Cina, tutta quanta il Far East e il South East Asia, sono 16 paesi che hanno un 30% della popolazione mondiale, quindi stiamo parlando di 2 miliardi e 200 milioni di persone, hanno avuto un numero di decessi, e tra questi ci sono paesi molto più affidiabili, anche in termini di come controllano i numeri, come il Giappone, l'Australia, eccetera. Un numero di decessi che è inferiore alla sola Spagna, che ha 40 milioni di abitanti. Quindi la distanza veramente impressionante rispetto a quel pezzo grande dell'Asia e questo probabilmente avrà degli impatti molto, molto forti. Questo per dire che l'Europa e gli Stati Uniti hanno il 10% della popolazione, spendono più del 60% della spesa globale in sanità e hanno il 50% delle morti, quindi comunque sono numeri molto, molto pesanti. Poi più recentemente, però non mi voglio dilungare, l'Occidente, che complessivamente sembra aver fatto male sulla pandemia, si è diviso ulteriormente in due, perché gli Stati Uniti e il Regno Unito almeno hanno recuperato alla grande sulla campagna di vaccinazione, mentre l'Unione Europea è rimasta dietro. Questo qui è un grafico, vado più veloce, perché veramente, però volevo dare, è un po' l'argomento di Francesco prima. Se noi mettiamo su un plot, su un grafico, capacità di crescere del prodotto interno lordo e livello di vicinanza al paradigma di democrazia liberale, perché poi democrazia è un concetto, democrazia liberale è un concetto completamente diverso, sembrerebbe esserci una correlazione negativa forte della serie e quanto più tu sei democratico, meno cresci. Questo anche quando neutralizziamo diversi livelli di ricchezza, perché si dice normalmente i paesi democratici sono più ricchi e quindi crescono di meno. Non è vero, questo velocemente, nel passato non è vero che la democrazia è sempre stata inefficiente. Per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento i paesi democratici, i paesi più ricchi, crescevano ancora di più dei paesi più poveri. Cioè sostanzialmente è veramente degli ultimi vent'anni, trent'anni, che la democrazia liberale è andata in crisi. Quindi non è vero neppure quello che si dice normalmente dalle nostre parti che, come dire, siamo sfigati perché è un costo della democrazia. Non è vero. La democrazia può essere funzionante, come in pandemia del resto dimostra il caso di Israele, o il caso della Svizzera o il caso anche della Germania, fino a un certo punto. Velocemente, loro utilizzano, il grande segreto della Cina, loro utilizzano le tecnologie per risolvere problemi concreti. Noi utilizziamo le tecnologie per chattare e dice il mio amico, mio zio Romano Prodi, anche lui molto appassionato della Cina, che a quel punto se io chatto su Facebook è chiaro che la produttività diminuisce ancora di più. Allora, le tecnologie le utilizzano sistematicamente, ad esempio, per portare fragole, semi di fragole nel Sichuan e poi le fragole indietro nei mercati di sbocco e hanno avuto dei grandissimi successi anche in termini di riduzione della povertà. Questa oggi è la situazione, la battaglia per la leadership digitale del mondo e sostanzialmente tra gli Stati Uniti e la Cina, l'Europa ne è abbastanza fuori. Non è verissimo che la Cina attrae tutto il suo sviluppo dalle esportazioni, perché in effetti l'Europa esporta molto di più. Un elemento molto importante sono gli investimenti, loro hanno sempre dedicato una quota a parte della loro ricchezza, gli investimenti, veramente impressionante. Andiamo un attimo su, però, i punti di debolezza. Punto di debolezza numero uno, la Cina non... Queste sono le infrastrutture ancora, cioè hanno il 30% dei treni ad alta velocità. Allora, questo era un po' quello che vi volevo dire. La Cina non esercita, non riesce assolutamente ad esercitare quella che qualcuno chiamava un po' di tempo fa. Io, tra l'altro, ho una formazione assolutamente liberista, ma Gramsci parlava di egemonia culturale. La Cina è assolutamente incapace di vendere se stessa. Se ragioniamo per delle prime università o dei primi cento film in un anno sono tutti quanti americani, la Cina non c'è. E c'è questo grosso problema del Xi Jinping e del Tibet, ma anche di Hong Kong. Sostanzialmente la Cina ha ancora questa grande sindrome di accerchiamento, che probabilmente aveva pure la prima Unione Sovietica, e quindi reagisce in maniera molto brutale a minacce interne, ma probabilmente, ed è questo il motivo per il quale dicevo che i punti di forza, i punti di debolezza della Cina che sono connessi, è forse questa loro costante sensazione di dover lottare per la sopravvivenza che li fa essere così efficienti e così veloci. Tra l'altro questa è una caratteristica anche di quasi tutti gli altri paesi asiatici, pure molto diversi dalla Cina, che sono in quell'area. Grazie a tutti.